Se ti piace Harry Potter sei nel video giusto, ecco i Warner Bros. Studios a Londra. Un mondo fatto di scope magiche, burro, birra, ponti e il famoso binario 9 e 3 quarti. Questi sono i nostri biglietti ed eccoci arrivati alla porta d'ingresso dove si apre il salone centrale. Credetemi, sembrava di essere proprio nel film con queste tavolate imbandite lunghissime, costumi che non sono delle riproduzioni ma bensì proprio i costumi originali che sono stati utilizzati nel film. Vi ricordate l'abito che ha utilizzato Hermione nel ballo? E' la scala a cui piace cambiare, ma non solo, il dormitorio dei ragazzi con tutti gli oggetti utilizzati durante la scena. Il giratempo di Hermione, l'ho trovato. Queste sono le bacchette utilizzate. Nell'altro social mi avete chiesto lo specchio delle brame. Questo invece è il mantello dell'invisibilità. Ma arriviamo qui nello studio di Silente. Vi ricordate il laboratorio delle pozioni di Piton? Ma il momento è arrivato, entriamo nella foresta proibita dove troviamo Fierobecco. Ci chiamano! Questo è il treno che porterà Harry a Hogwarts. Mi bevo una burro birra. E ancora la sera delle mandragone, la banca, un drago 4D diagonale e un gufo. Cose strane io che ballo con doppia e scelgo la bacchetta. Questo è molto altro a Londra, Warner Bros. Studios. Ciao!